Se state avendo difficoltà riguardo a soddisfare così i requisiti su Windows 11, soprattutto anche soddisfare requisiti su molti giochi per via del TPM 2.0, il circuit boot, quindi in questo caso l'applicazione di controllo integrità PC che ti ho lasciato in descrizione, il link download, ci clicchi sopra, te lo scarica e lo installa senza nessun problema. Ovviamente vado su controllo ora, visualizza tutti i risultati, è questo qua, questo PC supporta l'avvio protetto, TPM 2.0 abilitato, tutto il processore, lo spazio, quindi il processore dispone di 2 o più core, quindi questo PC soddisfa i requisiti di Windows 11, mi è stato segnalato che qualcuno ha dei problemi riguardo al TPM 2.0 e il circuit boot e come puoi vedere non è come il mio. Questo PC non sono tisfa attualmente i requisiti di sistema di Windows 11, quindi il PC deve sopportare l'avvio protetto e il TPM 2.0, quindi cosa sono questi due? Questi due vanno abilitati nel BIOS della scheda madre, quindi spengo un attimo il computer e ti riprendo e ti faccio vedere tutto da telefono. Quindi tieni pronto a schiacciare così i tasti che ti escono sullo schermo, a me è F12 Canch, ed ecco il qua. Come è notato qua sotto c'erano dei tasti da premere per entrare nel BIOS, quindi in questo caso a me era il tasto F12 o DEL o Canch. Quindi una volta fatto qua si abilita il TPM e il circuit boot direttamente nel BIOS della scheda madre, quindi per il circuit boot puoi scrivere direttamente qua sopra circa e scrivi qua. SIGRI ed eccolo qua, il circuit boot è abilitato e questo qua invece vai a mettere custom. Chiudiamo qua, vai su settings, security, trusted computing, questo qua, TPM stato abilitato. Questo no. MD, FTP, TPM switch, eccolo qua, se è disabilitato ti metti l'abilitato e basta, a me è tutto abilitato. Una volta fatto, premi il tasto F10 che sta sulla tastiera, questo qua, F10 e salvi così la configurazione. Se in caso ti salva tutto e ti riporta la schermata del BIOS, puoi semplicemente, non so, togliere la batteria tampone dalla scheda madre, sarebbe questa qua, quella là, la rimuovi e la rimetti di nuovo e fai da capo la configurazione nel BIOS. E facciamo sì. Ed ecco che sta caricando e sta partendo così il sistema. Quindi, come hai notato, così si attiva il circuit boot, il PM 2.0 lo stato, e una volta fatto devi schiacciare il tasto F10 per salvare tutta la configurazione. Quindi, grazie a tutti per questa visione, noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.